Buongiorno a tutti, benvenuti in uno dei due, dato che il primo non ci ho avuto tempo quindi ce lo siamo per tutti esatto ma magari potremmo rifare comunque sti cacchi con l'incredibile scontro, dato che domani ci sarà l'incontro del G1 Climax il torneo tra i Rossi Tanashi dove cazzo sta? Aspetta un attimo per il video che lo pio io, l'ho già sbagliato ecco voilà, contro Kota Ibushi ammazza l'ho trovato quadrato quadrato va de là, va de là, va de là, va de là bon e iniziamo subito giocando in casa del bell'uomo si schiacci te eh qua è a casa vai a caso ok c'è va a caso visto? in casa della tua bambara ecco il link al mio canale Twitch e alla mia pagina Instagram per seguire gli aggiornamenti uuuuuhu uuuuuhu da pochino che non ci gioco a King of Fighters e a King of Fighters non di notte ma come si chiama qua? a Tekken vedete se ci sarà qualche rimarcanza sul personaggio è colpa di Bushy che si è scelto Steve Pero che lo scelta è uno che ti fa perché te me fai male aje te coro a presso bro oh oh k.o biatch sai la bella mozza che ti pigivo e ti eri ehi il che tu stavi facendo no no non gomigiamo no tieni giù le mani aio low kick diaccio ma è scarso questo qui non tira i calci ecco questo e invece i calci sai le finite non lo so è colpa mia ce la devi prendere con cotto i busci che ha preso col personaggio hai capito devi prendere le finte e prenderle al tuo cospetto no no mamma mia fake out basso colpo di gomitato alla caviglia no the first round it's hiroshi tanashi se il suo personaggio è rincio no rincio sempre con questo esatto no a 5 quindi 1 a 0 1 a 0 mi dispiace che abbia scelto quel personaggio lì sempre una alla butta no te che devi far su un attimino la mano to to viaggio lo coppia mia se i roshi tanashi prende ha tirato un calcio un calcio no è illegale nello sport del box nastardo lo coppia mia se i roshi tanashi sa che personaggi scegliere scusa to bello oh tirami un'altra volta al calcio volendo sui bai puoi tirare anche la testata gadget barbone o sei proprio una chiavica con l'asso e con stifo e tu stai calmo e tu stai top e mettere l'asso diciamo che come dire non lo so utilizzare quindi mamma mia che ti prendo prima passando nelle parti olandesi esatto è fatto bene mi è venuta la voglia di mangiare le olandesi che lei sa benissimo le olandesi patatine o quelle altre così quando eri piccolo le mettevi sulle dita le mannavi tipo 4-5 kg e niente 2-0 è 2-0 il che tu vuoi fare e che ci vuoi fare devi fare la rimonta no esatto ok invece di fare shadow boxing contro la telecamera perché dopo ti tocca un altro incontro perché c'è king contro Steve o tu vuoi fare kazuchiko e tradire Kotebushi eh no basta ti devi focalizzare sui pugni ma che ho detto sta roba quindi una una delle sue armi erano i calci eh no tu non me la fai la mossa tifoso ti prendo prima io sento nella parte bassa la base salte aia sling blade biatch no oh ah è la putz ma vai mamma mia ho foto finish però muo' stai a cagare cazzo quando puoi diciamo che il suolo fa oh cosa mi fa il fai un po' i saltini sling blade ooo ta na na ta na 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 go ace ho perso sull'attivazione della musica del go ace il primo il primo bastardo go ace bastardo schifoso go ace go ace buona aio poi è giusto che giochi in casa della tua amica la un ragazzo si chiama sling no madonna ah per cazzo ah per cazzo pezzo di due oh perché mi è una sfiga la musica del go ace au ah vieni di fare ste cazzo no e la madonna te sei già arrivato uuu no 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 e niente 3 0 mandato un medico ma non c'è neanche problema 3 0 va in selezionale personaggio e niente ragazzi è stata così sempre luce è stata veloce meno durare perché sono un po' scarso con quel personaggio qui come t'ho detto te lamenti con Kota Ibushi che prende i sponsor da sti personaggi scusa non c'è un culo Kota Ibushi no che a parte no che lui fa il box steve e Kota Ibushi faceva kickboxing prima di fare il breasting non te potevi prendere non lo so altri personaggi no warang fa taekwondo te prendevi chi cazzo fa kickboxing no no vabbè te piavi qualcun altro sto cazzo o Claudio Serafino niente più facile spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo incontro del G1 Climax tra King e Steve un'altra volta e e per il disco si che voglio uscire ma che dobbiamo zera grazie a tutti